Allora pronti? Icona! Andiamo a aprire voi va, vi vengo a aprire a voi End of flashback Costa tipo 50.000 crediti Costa una cosa come 50k tipo porco zia Oh mamma ma che squadra è oh? Tutte fischielle con tutte fischielle tipo delle SB Cioè degli obiettivi Gordon 80 di velocità Questa piana carta lo sai che fenomena Michele Loara La Morgan Ma che squadra c'è? Che carta c'è la Paris? Che è tutta sta roba? No sti tre giocatori aurorari ti apro Mi dispiace Quazzo serianta sdrunco Ciammione E allora mi sa che sta a tenere Forse sta a tenere perché Eh regà più che altro regà Prossima settimana Cioè questa settimana che viene Questa settimana che viene Regà C'è sta il Black Friday I prezzi lo sai dove vanno? Io vi consiglio Se posso Da piccolo Da Da Visionario del mercato Vi consiglio di vendere Al più presto Perché fordì perfetto non vendete? E dopo che vendiamo? Vabbè Tu tieni i soldi Tieni i soldi Venerdì parte il Black Friday Con 8 milioni di pacchi I prezzi si abbassano E te li fai a squadra Tranquillo Mo' risponde 3 giocatori 86 Capiamo Ton E Kimmich Basti dei cosi Dov'anni i prezzi Stanno già al minimo Eh quello è vero C'è da di che è vero C'è da di che pure Quello è vero ragazzi Capiamo l'Icon Pronti Vabbè Almeno è 89 Eh non mi dica Stai già buggato Air party ragazzi Eh ragazzi Abbandonate la nave Abbandonate la nave Che tocca rifare party Al volo Un hour later Pezzo de merda Ma ti vuoi iscrivere al canale? Com'è possibile Che il 79 mila per cento Delle persone Che guardano il video Non sono iscritte al canale? Cioè è possibile questa cosa? Iscriviti al canale Attiva la campanella Per tutti i video Metti mi piace A tutti i video Mi raccomando Aie Puliti Vai Perfetto Com'è sto locatelli? Ti è piaciuto? Oh Chefchenko Bello Come che schifo C'è il tiraggiro Chef Oh Ah è vero C'è il power shot Regà Quello nerd Tira E allora si è inutile Se sei ribuggato Mi ammazzo Mi faccio fuori No regà Sei ribuggato Non mi dì Che palle sta play 5 Porco Dio ragazzi Oh Ma regà Funzionava su A4 Sta roba Facciamo i party Con 30 persone dentro Su A4 Non ti è baggato mai Che ne pensi Oh Peppi Io te sto a guardare Senti Aprivo te Mentre te guardo Aprilo Vai Peppi Facci sognare Cazzo era pure la WL Era bella Facci sognare Peppi Stiamo qui a fer tifo Bella cacata Beh ma che in go Gif vendi 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 Stanno altissimi gli gif Vendili tutti Sempre Vendete tutti gli gif Regà Che ce l'avete nel club Momentaneamente Purtroppo Regà Sto a pagare Una barca De tasse Io non lo so se sapete Come funzionano le tasse Ma tu arrivi a novembre Che devi pagare L'ultima rata E poi non è che devi pagare Solo l'ultima rata Devi pagare pure Acconto Dell'anno dopo L'acconto dell'anno dopo Ci sta In realtà In realtà L'acconto Per me non ha senso Perché secondo me Ha più senso lasciare Dei soldi disponibili Agli abitanti italiani Per investire in qualsiasi cosa Piuttosto che dare i soldi Per l'anno dopo Che cazzo di senso C'ha i soldi per l'anno dopo Porco dio Non sei obbligato A pagare l'anticipo È vero Non sono obbligato A pagare l'anticipo Però è meglio pagarlo Tipo l'anno scorso Non l'ho Cioè Non l'ho Non l'ho pagato Perché ero in Come si dice Con sto gesto Mi è stata a capì Con sto gesto Ma avete capito In credito In credito Bravissimo Ero in credito A credito A credito Capito che te voglio dire Cioè tu immaginati che boom Paghi tipo l'anticipo E poi stuc Mori domani Impossibile trovare qualcosa di buono Studiare giurisprudenza serve? Che voglia Ma serve studiare ragazzi Studiate Bravi che sennò Diventate stupidi come me Ignoro ciò che non mi interessa Chi è? Ma che culo Ma raga ma abbiamo capito Non ve li devo aprire io i pacchi Io devo vedere i pacchi che aprite voi Quanto costa l'ham? Hop E nell'Icon boom Già il zigno Mi sa di no Mi sa che ne è già il zigno raga Purtroppo mi sa di no No vabbè ma no 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 Tienilo tienilo Dai Ma non ti ta Dai è andata bene su Dai non ci lamentiamo È andata di Cristo capo Grazie Peppe Mi hai fatto mangiare il piatto di pasta mo Niente quindi mi tocca condividere E vabbè E vedo i ragazzi che aprono l'Icon Meglio Almeno possiamo vederli Pronto Manna la capo Eccoci Oh Beckham Bello Non mi dica che hai fatto l'SBC caro No non l'avrai fatta l'SBC De Beckham Ti pare Ok meno male Vabbè Beckham lo puoi usare Sicuro ti è andata bene Cioè almeno Il prezzo supera l'SBC Quindi Secondo me Finché il prezzo dell'Icon Supera l'SBC Può essere considerabile W Come del team C'è postato dai Però do cazzo Comenti Beckham Giustamente Mellu Vai capo Bello Dai bro dai Scuriamo La recciotto Dai su Madone S'ho cagato sotto Pensavo fosse Mbappé Che comunque potrebbe Comunque esserci sotto Potrebbe Potrebbe essere Mbappé Dai Dacceviera Dai Bandiera francese Francia 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 Ma non mi pare Brutto Costo Buono Eh dai Non è carino Su Non è top Del top Però lo puoi provare Grazie caro Allora Poi Alpha Oh abbiamo trovato il metodo Certo Non li apro io i pack Che sto rosicato Però almeno andiamo Cioè almeno vi posso vedere Posso fare il tifo per voi Vampersi non è malaccio Dai Pure lui Non è top Però puoi giocare Ma un'altra volta E no Questo è quell'altro E questo mi sa che è un po' peggio Questo mi sa che è un po' peggio De Sanchez Eh Alla chiamo Mi dispiace T'ho voluto bene Alpha T'ho voluto bene Inaccendibile una sigaretta Ragazzi Porco dio Sembro l'uomo di Neandertal Con due accendini Fuoco Fuoco Vai Daccelo duro Daccelo duro Vai al drop Al drop E ci ritiriamo Ok Fai l'usirò 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 No Erbalandroid Proprio moldato Porco dio Ribéry Che culo Che culo Mi dispiace caro Vai Giulio Goten E Costix Prego ragazzi Quando volete Madonna mi sento veramente come l'uomo di Neandertal Che è riuscito ad accendere il fuoco in questo momento Allora Ecco qua Vai Giulio Competiti Volli fans Voto fregne Ma che vuol dire Prego fammi vedere Nove Sette e più Non è il mio tipo Sei meno pieno Nove e più Nove e mezzo Cinque Onesto no Per me La Morgan Maggiore ragazzi No no ragazzi Mi fa troppo Cioè Sei un attimo Sei un attimo Alzato il braccio A caso Mi fa niente sta cosa Ultimamente Cioè veramente Sta uscita di testa Sta roba Non so perché ci penso Ci penso troppo Oh Cos sono Madonna quella La roba Quanto ha fatto Rite quella roba Del capodanno Il capodanno Senza Luci No non la conosco Non la conosco Quello è il tiktok E mi è passato un capodanno Senza luci Non c'è capodanno Senza luci Non c'è Non c'è Mamma mia Ma poi la risata Del zazzone Sotto Ragazzi Mi uccide A me La risata Del zazzone Sotto Mi distrugge Ma poi Massacrato Frate Ha carriato Zazzone Con quella risata Ha carriato proprio Oddio No ma è troppo contagiosa Sì cioè io amo Chi ha questo tipo De risate Perché Te porta proprio Capito Te mette Viene da ride Senza Presenza Di incazzo Merch tuo a breve Guarda te dico la verità Doveva uscire Il mio merch Ma in realtà Stiamo lavorando Per fare un merch In collaborazione Una collaborazione Molto importante Guarda che sto lavorando Sto lavorando Molto bene In modo silenzioso Signori Sono con voi Oh stai magando Guarda che questo Se se upa Potrebbe essere simpatico Infatti è quello che Cioè Nonostante 84 Costa magari un po' De più Cobarengo Mi so sentito anche Cobarengo Cobarengo sicuramente Ve lo dico per certo Il prossimo anno Uscirà qualcosa insieme 100% Lasciatemi cucinare Oh la carciofina Bruno Bello Se è come la camicia De silver surfer Andiamo bene Ma la vuoi vedere Le volete vedere Le camicie De silver surfer Regà che me sono arrivate No 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 Non me fa Amo Me allunghi Le camicie De silver surfer Per favore Capa No gliele voglio Fa vederle Che rendono De più Vabbè dai Il giusto Per farle vedere Sti cazzi Che sto da stirata Dai non te preoccupa Paolo scolastico Il ciucciatore Dei piedi Della figlia No non lo mettere in mezzo A questa squadra Paolo scolastico Di vostra sicura Non è un bel messaggio Lo sai Ti ringrazio Amico mio Ragazzi Aspettate un secondo Guarda che hit Che urenda Guarda quanto è bello Silversio Il fersio porco Ragazzi Questa è il matrimonio Questa è la manata Però eh Questa ragazzi È Per i più studiati Questa è una manata E t'ho detto Che spacca Ma quanto è bello Silversurfer Sio porco Vai Oh bella La paruglie Ah rega ma So supreme So supreme Ste camice È una collaborazione Top Bella Ziziano love Consiglio Per un sostituto Watki Hai mai fatto Un capodanno Senza luci No Fammi vedere Fammi vedere Sostituto per Watkins Un sostituto per Watkins E che problema c'è Marcus Rashford Anche perché Sennò che cazzo Gli consigli Sennò che cazzo Tipo sì Ma tipo quello Che troviamo Nell'Icon Guardalo Anche Joe Pedro 88 Potresti provare Non so se Tu riesci all'inca Ma Joe Pedro 88 È veramente buono Vai Vabbè vedi Magari nel video Dell'armadio Questa Incemente Porco 2 Sembro Arlecchino Zio cane Bellissima È una merda Larson Annamo Te chiedo scusa